Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi un make up tutorial per un look powerful. Step 1, a shadow palette 02. Applico l'ombretto avorio nell'angolo interno, in questo modo, e sotto l'arcata sopraccigliare. Et voilà. Come step 2, applico l'ombretto verde su tutta la palpebra mobile. Sfumo nella piega. Come potete vedere un bellissimo verde con dei riflessi dorati. Step 3, vado a utilizzare l'ombretto grigio Antracite per intensificare la parte esterna dell'occhio. Prendo il grigio e vado a tamponare, in questo modo, nell'angolo esterno. Con un pennello pulito sfumo il tutto. Step 4, applico una matita nera nella rima interna. Step 5, vado ad utilizzare l'ombretto blu nella rima inferiore. Step 6, applico una linea di eyeliner per definire l'occhio. Step 7, stendo il mascara extra volume sulle ciglia superiori e inferiori. Step 7, applico il rossetto nutriente e levigante numero 8 su tutte le mie labbra. Step 8, applico il rossetto nutriente e levigante numero 8 su tutte le mie labbra. Step 8, applico il rossetto nutriente e levigante numero 8 su tutte le mie labbra. Step 8, applico il rossetto nutriente e levigante numero 8 su tutte le mie labbra. Step 8, applico il rossetto nutriente e levigante numero 8 su tutte le mie labbra. Grazie a tutti